Uno dei problemi che maggiormente ci viene segnalato è quello del ritardo con il quale vengono pagate le fatture. Mediamente i dati ci dicono che nel 2015 una fattura viene pagata con un ritardo di 75 giorni. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione questo ritardo arriva fino a 100 giorni. Con questa proposta di legge cosa vogliamo fare? Sostanzialmente introduciamo un nuovo regime che è il cosiddetto regime per cassa, ovvero nel momento in cui un imprenditore svolge un lavoro, emette una fattura, la registra, oggi attualmente questa fattura comporta il pagamento anticipato delle imposte IRES e IRPEF relative a quella fattura. Capita come molto spesso, soprattutto durante questa crisi economica, che queste fatture possano non essere pagate né durante l'anno fiscale in corso, ma probabilmente nemmeno negli anni successivi. Quindi oltre il danno anche la beffa, l'imprenditore ha fatto il lavoro, non viene pagato e in più deve anticipare le tasse. Come dicevo con questa proposta di legge noi vogliamo almeno sollevare, alleviare l'onere dell'anticipo delle tasse, cioè non facciamo altro che traslare il momento in cui l'imprenditore deve pagare le tasse col momento effettivo dell'incasso della fattura. Si dice appunto regime di cassa. Questa proposta di legge è rivolta sostanzialmente alle cosiddette imprese minori, cioè a quelle imprese che hanno un fatturato fino a un milione di Euro per la fornitura di servizi, mentre per tutte le altre si arriva fino a un milione e mezzo di Euro di fatturato. Vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando commentate e dateci suggerimenti su questa proposta di legge sul portale Lexa.